L'importante è che la cosa fondamentale è che, oltre a prestazione, sia andata bene, che abbiamo vinto, è quello fondamentale. Forse per te è stato meglio, se avessi dato un po' di giocatori, non parlavi di starci a lavorare con la gretta? No, quando uno gioca tenta sempre di dare il massimo e di fare bene. Quello però già da ieri Jacopo non stava benissimo e in parte ci si aspettava. Poi oggi ha provato, ha fatto il riscaldamento e ha detto di no, quindi sono scaldato e ho giocato io. Una parata dove, rivedendomi dove potevo fare meglio, magari l'uscita che ho fatto sul calcio d'angolo al secondo tempo, che lì poi l'ha presa a porta nuova dietro, magari lì potevo fare meglio. Le due parate dove sono stato più difficoltà, cioè dove ho fatto bene, quella uno contro uno di piede al secondo tempo sulla punizione che hanno giocato corto. E poi quello che ha preso la traversa, che l'ho deviata sulla traversa. In parte sì, però più che l'esordio la cosa fondamentale è che abbiamo vinto e è quello il fondamentale. Poi l'esordio è tutte le domeniche, è come se giochiamo titolare, perché sono lì accanto a Jacopo, anche se non fisicamente e mentalmente sono in porta accanto a lui, quindi non è quella la cosa fondamentale. No, vabbè, la rivincita, le scelte si prendono inizio anno, il titolare Jacopo è giusto che sia. Ma io dicevo, è l'invio della partita di Pola. Ah, vabbè, ma quello già avevo parlato con il mister Morgia, non è che l'aveva rinviata perché aspettava Jacopo, ecco. Perché magari aspettava il recupero di Vergassola e Redi e anche Riva, che poi, come è successo, per Colle c'era sia Riva, sia Simone che Redi, ecco. Il mister Merani ha già trovato un difetto oppure aspettando di... No, no, il mister Merani l'ha già trovato, ma come è giusto che sia. Ma volevo soprattutto ringraziare lui, ma come tutto anche il mister e tutto lo staff che con noi portieri, ma come con tutti, sta facendo un grande lavoro e c'è tantissime cose da migliorare, su cui devo migliorare. Ma sia a me che a Jacopo ci danno una grossa mano, soprattutto noi siamo più giovani nella squadra e per questo devo ringraziare tutti. Ecco, stiamo facendo un grande lavoro, soprattutto grazie al mister Merani e ci migliora ogni giorno, ecco. Dove l'ha vinta oggi il Siena? Il Siena l'ha vinta, la partita l'abbiamo fatta noi, ci sono state un sacco d'occasioni, come succede spesso. Alla fine poi la squadra siamo riusciti a fare go meritatamente e anche a non subirlo, perché in fase difensiva siamo stati quasi perfetti, ecco. Ok, grazie.